Ecco, siamo ad Abu Dhabi, di fronte al palazzo degli Emirates, proprietà del governo, questi sono gli hotel di fronte, una piccolissima proprietà tra poche centinaia di euro. Abbiamo anche una signorina del Pinocchio, qui il palazzo ora si va dentro a vedere se ci vendono un paio di Lamborghini, si portano a casa. Insomma qui costituiscono robe piccole, robe non si vedono quasi. Grazie. C'è una piccola hall di questo palazzo, ma abbastanza sobria, nel senso tranquilla tranquilla, nulla di che, ecco, rubetta. Qui c'è un piccolo auditorium giù, che bisogna entrare, ma ora è chiuso, che qui tutto molto tranquillo, insomma, niente di che. Qui c'è l'ex boss deceduto, ora mi hanno fatto la moschea, anche. Insomma, tutto abbastanza tranquillo, lampadari tranquilli, tutto molto... però vado a dolire, insomma. Grazie.